Living Land quest'estate coinvolgerà circa 50 realtà tra comuni, agriturismi, enti no profit e aziende che ospiteranno quasi 400 giovani in esperienze che noi chiamiamo pre-lavorative. In concreto i giovani saranno impegnati nel riqualificare spazi pubblici, coltivare orti sociali, supportare le attività degli agriturismi e supportare le attività degli uffici turistici. Living Land non vuole essere un'agenzia di collocamento, non è quello lo scopo. L'intuizione da cui parte Living Land è che oggi manchi uno spazio dove i giovani possono permettersi di capire chi sono e anche sbagliare. Il mondo adulto chiede sempre di più una perfezione ma non offre spazi dove i giovani possano sperimentarsi e capire chi sono. Ogni comune aderente ha sul proprio sito il bando aperto, alcuni bandi sono già chiusi, altri invece sono ancora aperti. Sul nostro sito www.livingland.it trovate tutte le informazioni. Tutte le esperienze prevedono un'indennità economica che varia a seconda del tipo di esperienza. Dal nostro punto di vista l'indennità economica è fondamentale per qualificare l'esperienza come adulta. Quest'anno grazie a una collaborazione con i comuni, le proloco, i musei provinciali e gli uffici turistici dell'ambito di Bellano, circa 20 ragazzi avranno la possibilità di gestire gli uffici turistici e i musei. Questo bando ha avuto un grande successo, sono arrivate più di 80 candidature, alcuni ragazzi addirittura sono arrivati da fuori provincia perché abbiamo avuto domande da Milano, da Como, da Monza e da Sondrio. I ragazzi sono partiti in questi giorni e continueranno la loro attività fino a fine settembre. Abbiamo la necessità di andare a ripristinare i sottopassi pedonali di Largo Europa e di Via Leonardo da Vinci e anche il sottopasso privato che va da Piazza 20 Settembre a Lungolago, tanto per intenderci quello vicino a Grom. Quindi prendiamo questi tre sottopassi, approfittiamo di questo progetto per andare a fare un ripristino completo in maniera tale che ci sia di nuovo la fruibilità e in particolare in quello di Largo Europa poter anche riaprire i servizi igienici. Quanti ragazzi saranno impegnati in questo progetto? Dovrebbero essere 18 ragazzi che lavoreranno sui mesi di giugno e luglio e anche la manutenzione del comune darà una mano per fare un certo tipo di attività che loro non riescono a fare.